Sull'Afghanistan bisogna agire ora con aiuti umanitari per evitare tra poco una crisi migratoria alle porte dell'Europa come accadde nel 2015. A riassumere così la linea del vertice straordinario dei 27 ministri degli interni è la commissaria svedese Johansson, secondo cui bisogna aiutare subito la popolazione afghana e i paesi limitrofi Pakistan e Iran che ospitano decine di migliaia di profughi. Sono più espliciti i tre ministri degli interni di Austria Danimarca Repubblica Ceca in una dichiarazione congiunta si rivolgono direttamente agli afghani non partite verso l'Europa il messaggio vi aiuteremo nella vostra regione. La porta resta aperta comunque per chi fugge da situazioni difficili precisa la ministra Lamorgese. È stata manifestata da parte di tutti i paesi la piena disponibilità a un approccio ordinato e completo di quelli che sono gli arrivi flussi da parte degli afghani e quindi la disponibilità di tutti i paesi a partecipare anche all'accoglienza. Intanto per il segretario della Nato Stoltenberg deve restare aperto l'aeroporto di Kabul per favorire l'invio di aiuti umanitari e permettere ulteriori partenze. Un messaggio che potrebbe aprire la porta a un intervento della Turchia che fa parte dell'Alleanza Atlantica.